ciao sono virna realizziamo insieme la maglia poncho con il filato della linea luxuri di filati 3 seri cashmere 100 che cosa ci occorre ci occorre del filato cashmere 100 nel mio caso io ho scelto il colore 40 ma potrete scegliere colore che vi piace di più dei ferri numero 4 e il nostro ferro per le trecce partiamo con la nostra realizzazione togliamo il pezzo già fatto e andiamo a prendere il filo all'interno del nostro gomitolo e per iniziare il nostro lavoro dovremmo andare a mettere sul nostro ferro 164 maglie lascerò un filo abbastanza lungo per poter mettere 164 maglie parto facendo il mio solito nodo cappio in questo modo lo vado a inserire sul ferro sul mio pollice vado a mettere il filo quello che ho lasciato lungo mentre sull'indice il filo quello che arriva dal gomitolo e andrò a inserire le mie 164 maglie in questo modo ci rivediamo dopo aver inserito tutte le maglie sul ferro messe le nostre 164 maglie procediamo con un giro tutto a diritto facciamo scorrere un po le nostre maglie la prima la passiamo sempre senza lavorarla e dalla seconda andiamo a lavorarle a diritto questo fino a scusate mi è scappata la rifacciamo perché quando lavoro lentamente faccio questo lavoro quindi a diritto inseriamo passiamo il tiro e lavoriamo ecco qua e andiamo a fare tutte le nostre 164 maglie a diritto terminato il nostro primo giro a diritto siamo pronti adesso per creare il nostro bordo alto 15 centimetri con questo motivo intrecciato come proseguiamo allora noi abbiamo messo 164 maglie 4 maglie le usiamo per fare il divagno sia a destra che a sinistra per cui le lavoreremo sempre a diritto quindi una è una due e poi parto con lo schema della mia treccia quindi lo schema della mia treccia sarà questo si realizzerà su cinque punti saranno tre punti a diritto e due punti a rovescio così fino alla fine del nostro giro verrà ripetuta questa sequenza per una due volte dopodiché ci sarà l'incrocio vedete che c'è questo sottolineato sarà la parte di incrocio ma adesso vela della racconto mentre la lavoriamo abbiamo detto facciamo due maglie poi ne facciamo partiamo già con il nostro primo incrocio per cui dobbiamo andare a mettere due maglie in sospeso con il nostro ferro scusate intanto con due maglie è scappato il fermo ma noi lo rimettiamo così due maglie sul davanti del nostro lavoro lavoriamo la terza maglia a diritto andiamo a riprendere le nostre due maglie messe sul ferro per le trecce in sospeso e andiamo a lavorarle a diritto e abbiamo creato il nostro primo incrocio poi ne facciamo due a rovescio e di nuovo lasciamo un po più di filo prendiamo due maglie le mettiamo in sospeso sul nostro ferro da treccio lavoriamo la terza a diritto rimettiamo le nostre maglie che erano in sospeso le rimettiamo sul nostro ferro e le lavoriamo di nuovo a diritto e di nuovo due rovesci proseguiamo in questo modo fino a fine ferro ricordiamoci che le ultime due maglie saranno a diritto perché sono quelle di vivagno fatto il nostro primo giro con gli incroci passeremo al giro di ritorno in questo caso il giro di ritorno viene lavorato così come le maglie si presentano quindi sempre la prima la passiamo ricordiamoci sempre di passarla la seconda in questo caso andiamo a lavorare a rovescio e poi due diritto esattamente come si presentano ci vediamo nel secondo giro di andata terminato il giro siamo pronti adesso per fare praticamente il nostro terzo giro è praticamente il secondo giro di andata da quando abbiamo cominciato l'incrocio il terzo su tutti e tre perché abbiamo fatto un giro di andata dove abbiamo incrociato un giro di ritorno e questo è il terzo giro di andata questo giro di andata come potete vedere nel nostro schema sarà tra i diritti e due rovesci senza incroci ricordiamoci soltanto sempre che le prime due maglie vanno lavorate a diritto sempre così che sono il nostro vivagno poi lavoriamo le maglie come si presentano quindi una due e due rovesci e così fino alla fine del nostro ferro dopo aver fatto il nostro giro indicato con il numero 3 e anche il giro di ritorno quindi quello che sarebbe stato il 4 passiamo ora praticamente a questo giro che qui non è segnato come 5 ma sarebbe 5 e dove andremo a rifare l'incrocio quindi facciamolo ancora una volta insieme ricordiamoci sempre che le prime due sono di vivagno e quindi a diritto poi andiamo a prendere il nostro ferro quello per le trecce sospendiamo sul davanti del nostro lavoro ecco qua di un scappato di una lasciare ferro un po più lungo perché se nasce ok così sul davanti del nostro lavoro le maglie andiamo a fare la terza a diritto riprendiamo le nostre maglie messe sul ferro le trecce e lavoriamo anche queste a diritto poi di nuovo e qui abbiamo fatto il nostro primo intreccio poi di nuovo due rovescio e così a seguire fino ad ottenere il nostro bordo dell'altezza desiderata quindi contiamo insieme quante volte dobbiamo ripetere questa sequenza una due tre quattro aspettate una due tre quattro cinque sei sette 8 9 10 11 volte 11 volte avremo così il nostro bordo dell'altezza giusta desiderata ci rivediamo dopo aver terminato il nostro il nostro bordo terminato il nostro bordo dopo aver realizzato le nostre 11 sequenze di intreccio come vi ho fatto vedere precedentemente dobbiamo ora passare alla lavorazione seguendo lo schema ora tutto lo schema per la larghezza chiaramente non ve lo potevo far stare in un foglio però vi spiego due cose al la partenza la andremo a fare con 35 maglie tutte a diritto e vedete che qui nello schema ce ne sono alcune ma vi da la lunghezza da a con 35 maglie poi a seguire ci sarà il modulo della treccia che è questo che verrà realizzato dopo aver realizzato le nostre 35 maglie a diritto e poi si proseguirà con tre moduli esattamente come questo infatti qua c'è scritto da ripetere altre due volte in orizzontale quindi fatto uno ripeteremo da questo punto a questo punto altre due volte per poi tornare a fare un'altra treccia che è come quella precedente il modulo ma in realtà con l'incrocio una l'incrocio a destra l'altra l'incrocio a sinistra e dopo di che andrò a terminare con 34 maglie a diritto lo schema che vedete è solo per i giri di andata quindi sarà 1 3 5 7 quindi tutti i giri dispari mentre nei nostri ferri di ritorno lavoreremo esattamente le maglie come si presentano io adesso vi faccio vedere il primo giro di partenza dopodiché ci rivedremo per gli incroci così vedrete tutti i vari passaggi anche perché sennò diventa eterno il nostro il nostro video quindi vi farò vedere in partenza i diritti i rovesci e la sequenza in cui ci sarà una cavallata semplice due maglie insieme a diritto questa maglia che ha l'incrocio che è un diritto preso ritorto quindi vedrete la prima sequenza dopodiché ci rivedremo alla fine del primo modulo e vi indicherò quanti moduli dovrete ripetere per arrivare all'altezza desiderata siamo il nostro lavoro quindi abbiamo detto 35 maglie a diritto per cui la prima la passo come sempre poi andrò a lavorarne una due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci dieci undici undici dodici tredici quattro 14 15 16 17 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 23 27 28 29 30 31 32 33 34 e 35 fatte le prime 35 a questo punto io sarò arrivata a questo punto del mio schema per cui andrò a fare due maglie a rovescio per impostare la treccia quella larga quindi due maglie a rovescio poi sei maglie a diritto quindi una due tre quattro cinque sei maglie a diritto poi ho due rovesci della treccia e un rovescio che il primo del mio modulo quello che mi creerà il disegno centrale quindi un altro rovescio dopodiché cosa leggerò due maglie insieme a diritto quindi mi porto il filo così vado a prendermi a prendermi due maglie insieme a diritto le faccio farò un gettato e poi un rovescio poi tre maglie a diritto quindi una due tre e di nuovo due maglie insieme a diritto un gettato un rovescio poi ho questa maglia qui che è una maglia a diritto ritorto e come la farò andrò semplicemente invece di puntare il mio ferro qua andrò a puntarlo dietro nella parte retrostante la maglia quindi entro così e vado a puntarlo qui e faccio il mio diritto esattamente come avrei fatto puntando diversamente poi di nuovo un rovescio lascio il filo da questa parte perché devo andare a fare un gettato ma in questo caso andrò a fare una cavallata semplice quindi passo una maglia e lavoro la successiva diritto e poi vado ad accavallare la maglia che avevo passato e di nuovo mi porto il filo di qua perché ho bisogno di fare un come si dice un gettato passo una lavoro la seconda e poi vado ad accavallare fatto questo ho ancora tre maglia diritto quindi una due un rovescio due insieme a diritto due insieme a diritto un gettato e un rovescio allora questo schema adesso io lo vado a ripetere altre due volte e poi terminerò con la mia treccia e le ultime maglie a diritto terminato il nostro primo giro di andata e realizzato il giro di ritorno lavorando le maglie come si presentano siamo pronti per il nostro secondo giro dello schema cosa andremo a fare adesso allora lo ingrandisco un pochettino così andremo a fare le nostre 35 maglie iniziale a diritto la parte dello schema da treccia poi seguiremo lo schema del del disegno centrale prendiamo il nostro lavoro e facciamo insieme la prima parte partiamo con le nostre prime maglie a diritto come abbiamo fatto precedentemente così e andiamo a fare le nostre 35 il lavoro poi pian piano diventa bello scorraevole anche perché lavorare con questo filato è veramente veramente un piacere io adesso cerco di andare un po veloce per sentire il tutto anche perché sto facendo tutta la parte delle maglie a diritto arrivo sono quasi in arrivo alla fine della 35 maglie così così per ora per rumore dei feri di sottofondo ma lavorando si sente eccoci qua siamo quasi arrivati alla fine delle 35 maglie quindi siamo qui andiamo a fare i due rovesci della treccia che intreceremo nei giri successivi poi sono sei maglia diritto e poi inizia lo schema quindi sono in questa riga qua a questo punto devo fare un gettato e subito dopo avrò un accavallata semplice quindi cosa vuol dire che mi tengo il filo dalla parte del rovescio vado a passare la maglia faccio la maglia successiva dietro vado a riprendere la maglia passata e la vado ad accavallare la maglia appena 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 voglio farlo quando faccio le cose all'alentatore si fa un po più di fatica così ho il mio gettato ho fatto la mia cavallo e l'alentatore ho fatto la mia cavallata semplice poi un rovescio quindi torno con il filo dalla parte del davanti del lavoro ritorno dirà e vado a fare due diritti due maglie insieme a diritto un gettato quindi mi porto il mio filo sul rovescio del lavoro di nuovo due maglie insieme a diritto un gettato un diritto poi un rovescio sono nel centro del mio motivo quindi sono qua una maglia un diritto il torto quindi come il fattore precedentemente vado a puntare un gettato è una cavallata semplice qui così come abbiamo fatto un attimo fa di nuovo un gettato è una cavallata semplice dopodiché due maglie a diritto un rovescio siamo qui adesso un rovescio che abbiamo appena fatto un gettato per cui il mio filo lo lascio da questa parte una cavallata e un rovescio proseguirò come ho fatto precedentemente replicando questo modulo appena fatto altre due volte e terminando con la sequenza quindi con poi la sequenza della treccia e le ultime maglie tutte a diritto abbiamo fatto il nostro giro di ritorno e già la prima parte del nostro terzo giro di andata dello schema siamo pronti per partire da questo punto non ho fatto la prima parte perché vi annoierei a fare soltanto dei diritti dei rovescio allora partiamo da qui quindi la prima maglia è un rovescio poi abbiamo due maglia insieme a diritto per cui portiamo davanti questo andiamo a fare due maglie insieme a diritto un gettato un rovescio e siamo qui poi abbiamo un diritto per cui riportiamo questo avanti avanti un diritto aspettate che magari mi metto un po' più da vicino così lo vedete meglio un diritto poi abbiamo due insieme a diritto un gettato due insieme a diritto un gettato è in questo caso poi due diritti quindi 12 diritti un rovescio una maglia a diritto ritorto quindi sempre come fatto prima presa dietro un rovescio due diritti un gettato una cavallata semplice un altro gettato una cavallata semplice un altro gettato una cavallata semplice un rovescio un rovescio due maglie insieme a diritto siamo qui due maglie insieme a diritto un gettato un rovescio anche per questo ferro abbiamo fatto il primo modulo proseguiamo anche qui con altri due moduli così e poi termineremo con la parte restante pronti adesso per il il quarto ferro del nostro motivo come prima abbiamo fatto la prima io ho già fatto tutta la prima parte e quindi parto seguendo lo schema del motivo centrale quindi un rovescio un rovescio poi un gettato un rovescio un rovescio un rovescio poi tre a diritto come abbiamo detto un rovescio un diritto ritorto tra i diritti un gettato una cavallata semplice un gettato una cavallata semplice rovescio un gettato una cavallata semplice un rovescio e di nuovo vado a ripetere due volte lo stesso disegno poi termino con il mio ho realizzato senza firmarlo anche il quinto ferro del nostro schema perché è semplice sono soltanto diritti rovescio e poi viene replicata questa parte che abbiamo già visto nei giri precedenti sono ora arrivata al sesto ferro del nostro motivo quindi ho fatto una maglia a rovescio un gettato quindi tengo il filo di qua una cavallata semplice un rovescio poi andrò a realizzare sei maglie incrociate a destra utilizzerò il mio ferro da treccia andrò a prendere le prime tre maglie e le porterò sul dietro del mio lavoro lavorerò le tre maglie successive a diritto recupererò le mie maglie sospese sul ferro da treccia e le metterò sul ferro di sinistra poi le lavorerò anche queste a diritto poi seguendo lo schema ho un diritto un rovescio un diritto ritorto un rovescio un diritto e sei maglie incrociate a sinistra per cui cosa farò prenderò le mie tre maglie e tre maglie sul ferro da treccia le terrò in sospeso sul davanti del mio lavoro vado a fare le tre maglie successive a diritto recupero le mie maglie sospese sul ferro da treccia e vado a fare anche queste a diritto poi un rovescio un gettato una cavallata semplice un rovescio e andrò a ripetere quest'ultima sequenza ancora per due moduli poi l'ultima parte nel giro successivo io ripartirò con il modulo che abbiamo appena terminato e farò l'incrocio della tre delle due trecce laterali la simbologia che vedete è diversa ma in realtà l'incrocio lo stesso perché ve l'ho messa diversa ve l'ho messa diversa semplicemente per non confondere il modulo centrale con le due trecce laterali ma saranno sei maglie incrociate a sinistra per la parte per la prima treccia che incontriamo lavorando da destra verso sinistra e sei maglie incrociate a destra per la treccia che incontriamo praticamente a fondo del nostro andremo ora a ripetere questo modulo che abbiamo fatto per nove volte e la treccia risulta l'intreccio della nostra delle nostre trecce laterali risulteranno una due tre quattro cinque sei sette dovremmo arrivare ad avere 50 adesso ve lo dico con certezza quant'è l'altezza del nostro del nostro lavoro escluso il nostro bordo no compreso il nostro bordo arriveremo ad un'altezza di 52 centimetri ci vediamo al termine degli intrecci per la chiusura del nostro davanti arrivati a 52 centimetri di siamo pronti per andare a chiudere il nostro lavoro per mantenerlo un po più morbido cosa faremo andremo a chiudere le maglie come si presentano quindi dove ho il mio rovescio andrà a chiudere facendo rovescio e cercherò di tenermi più morbida possibile mi raccomando quando chiudete le maglie bisogna rimanere morbido se no rischierete di avere un bordo superiore molto più stretto rispetto alla larghezza della nostra lavorazione quindi andò semplicemente a lavorare le maglie come si presentano e ad accavallarne una una in modo da chiuderle morbide chiuse tutte le mie le mie maglie andrò adesso a mettere dritto con dritto e cucirò le spalle lasciando un'apertura di 28 30 centimetri per realizzare il collo metterò così e col mio ago da lana andrò a cucire le spalle fatta la cucitura alle nostre spalle avremo la nostra apertura dovremmo andare quindi adesso a riprendere le maglie per la lavorazione del collo dovremmo andare a riprendere tutto attorno 164 maglie che lavoreremo poi con lo stesso procedimento con cui abbiamo fatto il bordo iniziale nello stesso tempo sempre con i ferri tra e mezzo andremo a mettere 234 maglie sul ferro e andremo a realizzare prima uno e poi l'altro bordo che andremo poi a cucire lateralmente procediamo quindi con la lavorazione dei bordi e del collo sempre facendo la nostra treccia con le cinque maglie come abbiamo fatto per il bordo iniziale terminati i nostri giri per la realizzazione del nostro bordo ne avremo chiaramente realizzati ne realizzeremo chiaramente due di questi bordi che sono poi quelli che ci andranno a creare le maniche del nostro poncio cosa dobbiamo fare per terminare questi bordi allora arrivati praticamente al termine del nono incrocio procederemo in questo modo andremo a fare praticamente nel giro di andata le prime due le faremo a diritto un rovescio e poi proseguiremo facendo per tutto il ferro due maglie lavorate insieme a diritto un gettato due rovesci e di nuovo due maglie insieme a diritto un gettato due rovesci termineremo il nostro ferro con le due maglie di vivagno che abbiamo tenuto per tutto il nostro bordo proseguiremo poi facendo un ferro di ritorno con le maglie come si presentano e terminati questi due ferri vi farò vedere l'ultimo ferro per poi chiudere la nostra il nostro bordo per la proseguiamo ora con l'ultimo ferro di andata prima della chiusura del nostro bordo come procederemo in questo caso allora la prima la passiamo la seconda a diritto la terza a rovescio e poi andremo a fare un'accavallata semplice quindi una passata una lavorata e poi accavalliamo perché qua mi è scappata la riprendo ripresa accavalliamo così avete visto anche tutto a rallentatore anche nel caso in cui scappi la maglia e poi due rovesci e quindi proseguiamo così teniamo questo una cavallata semplice così ci risulta un gettato una cavallata semplice due rovesci e proseguiremo così fino alla fine del nostro ferro di andata ricordandoci sempre di ultimare con due a divagno faremo il nostro giro di ritorno e poi la chiuderemo terminati i due bordi laterali dopo averli cuciti l'ultima cosa che ci manca per ultimare il nostro nostro capo è il collo che cosa ci serve ci servono dei ferri circolari con un cavetto lungo 80 nel caso in cui non vogliate utilizzare i cavetti cioè i ferri circolari potrete realizzare anche lo stesso motivo chiaramente ragionandolo facendo un giro di andata e un giro di ritorno noi invece lo lavoreremo in tondo cosa andiamo a fare adesso andiamo a recuperare tutte le maglie attorno al nostro collo ma andremo a lavorare dal rovescio del nostro lavoro questo perché perché io avrò bisogno poi di rivoltare il mio collo considerato il fatto che andiamo a lavorarlo con lo schema del nostro bordo se io lo lavorassi a diritto mi verrebbe così una volta rigirato per cui invece lavorandolo a rovescio mi rimarrà lavorato così allora cosa facciamo andiamo a tirare su le nostre maglie quindi prendiamo il filo scusate prendiamo il nostro filo partiamo da qui partiamo dall'angolo così ci viene meglio inseriamo il ferro e andiamo a tirarci su la nostra prima maglia come sempre per tirare sulle maglie se volete potete aiutarvi con un uncinetto se vi è più comodo altrimenti potete fare il lavoro che sto facendo io filiamo il nostro ferro nel punto così andiamo ad accavallare con il dito ci aiutiamo e ci portiamo sulla maglia facciamo questo lavoro lungo tutto il nostro collo tirate su le maglie per il collo che a me risultano essere 130 farò un primo giro di lavorazione tutto a diritto poi proseguirò con due giri esattamente uguali a quelli che ho fatto per i bordi delle maniche quindi andrò a fare un primo giro dove andrò a fare praticamente due rovesci due maglie insieme un gettato due rovesci due maglie insieme un gettato così fino a fine giro e poi il giro successivo andrò invece a lavorarlo facendo due rovesci una maglia accavallata semplice e prima ancora un gettato poi due rovesci quindi un gettato una cavallata semplice così via dopodiché nel giro successivo andrò a diminuire noi abbiamo 130 maglie dobbiamo arrivare ad averne 120 andrò a diminuire ogni 13 maglie ne andrò a chiudere una dopodiché partirò con la lavorazione della treccia ci rivediamo alla lavorazione della treccia terminato il nostro giro con la vita appena realizzato andremo a fare un giro con le maglie come si presentano quindi andremo a fare la nostra prima maglia ea rovescio la facciamo queste sono a diritto e poi di nuovo due rovesci praticamente sono due rovesci e due diritti per tutto il nostro ferro dopodiché fatto questo procederemo ancora con un ultimo giro dove andremo a fare un rovescio un gettato e una cavallata semplice faremo così per tutto il giro e poi ci rivediamo per chiudere il nostro collo siamo arrivati al termine nel nostro collo procediamo quindi adesso con la chiusura delle nostre maglie andremo a chiuderle esattamente come si presentano quindi rovescio rovescio e a cavallo ho diritto e vado ad accavallare e di nuovo rovescio terminato questo giro non ci resterà nient'altro da fare che fare le nostre cuciture e il nostro pull poncho in trecci e trafori sarà terminato grazie a tutti